Una protesta nel quartiere di Difesa Grande per difendere l'autonomia dell'istituto comprensivo Pace, per accorparlo ai due istituti della Brigida e della Schweizer. Una doccia fredda, così come ha definito la questione la preside dell'istituto Luana Occhionero. Se analizziamo il dato numerico, sia il plesso di Difesa Grande che la scuola secondaria Schweizer sono gli istituti più grandi della città. Questa scuola dal 2019 al 2024 ha avuto dei numeri in crescita. Sul tavolo della contrattazione dobbiamo specificare che Difesa Grande è un paese all'interno di una città, ha ribadito la preside. È una doccia fredda, una doccia fredda. I numeri che sono circolati sono numeri erronei, sono errati. Adesso andiamo a rettificare perché se dobbiamo analizzare il dato numerico posso dire che noi siamo la scuola più grande o comunque insieme alla Schweizer siamo le scuole più grandi di Termoli. per cui se il dato deve essere oggettivo e deve essere basato sul numero non siamo noi la scuola più piccola. Quindi ecco questa è una cosa che va portata immediatamente a notifica e gli atti devono essere rettificati perché c'è un errore materiale che inficia la deliberazione. Questa è una scuola che dal 2019 al 2023, anzi possiamo dire nel 2024, ha fatto dei salti nei numeri pazzeschi. Siamo riusciti a realizzare un vero curriculum verticale e la scuola funziona. Ce lo dicono i numeri, ce le dicono le iscrizioni che sono andate sempre in crescita. Poi preme rilevare che se uno dei criteri è quello della territorialità, noi siamo territorio, Difesa Grande è un paese dentro una città e quindi questo non può non essere su un tavolo della contrattazione. Noi abbiamo una realtà che funziona benissimo. Sappiamo cosa significa non avere la presidenza a Difesa Grande e quindi deve rimanere così com'è. Non si discute. Faremo tutto il possibile per mantenere le cose come stanno. Molte famiglie hanno scelto Difesa Grande, di vivere a Difesa Grande, proprio per la comodità di poter conciliare il lavoro con la scuola. Molti ragazzi qui vengono da soli. Dover portare i propri figli in un altro istituto di Termoli non sarebbe una cosa bella. Si parla tanto di autonomia, di rendere questi ragazzi responsabili e poi ci si viene a togliere un qualcosa che funziona. Funziona perché siamo in una scuola dove i nostri figli crescono dal nido, arrivano alla scuola secondaria di primo grado. Non si può non considerare questa cosa. Con il rischio di soppressione dell'autonomia dell'Istituto Pace si rischia di perdere anche l'identità di un quartiere, ma i residenti sono pronti a combattere, eventualmente con una raccolta firme. Tanta la rabbia tra i genitori degli alunni che chiedono un'immediata revisione di questo provvedimento.